Oggi è fondamentale che le organizzazioni abbiano logiche di classificazione che permettono una gestione il più possibile equilibrata della popolazione aziendale. Questo soprattutto al fine di garantire sia l'equità interna sia l'equità esterna, ovvero sia il come pago le mie persone all'interno dell'organizzazione e al tempo stesso garantire all'organizzazione di avere un sistema retributivo che sia coerente rispetto a quelle che sono le caratteristiche del mercato retributivo all'interno del quale l'azienda si colloca. L'equità oggi è un tema molto delicato ed è molto più ampio rispetto al passato. Non ci si basa più solo su dimensioni di retribuzioni, ma il concetto che passa è quello del total reward, ovvero andare a valorizzare tutte le leve gestionali retributive, dalla retribuzione più classica al welfare, agli investimenti in formazione che l'organizzazione mette a disposizione dei suoi dipendenti, cosicché l'equità interna diventi un elemento che va a toccare tutte le variabili retributive legate al profilo professionale di una persona. Le logiche di equità interna si basano sul presupposto che ogni ruolo abbia delle caratteristiche che lo rendono confrontabile e pesabile rispetto a tutti i ruoli dell'organizzazione. Il vantaggio di avere un meccanismo che rende esplicito questa lettura sta nel fatto che io ho la certezza di avere un sistema che è equo nel momento stesso in cui c'è una corretta correlazione tra che cosa mi aspetto da quel ruolo e quanto pago quel ruolo.